Chiara Cipriani, lei è una genitrice e insieme ai docenti di sostegno a manifestare. Quale testimonianza ci può lasciare? Siamo qui a manifestare e a darci tutti sostegno perché per noi genitori è fondamentale avere degli insegnanti preparati, degli insegnanti specializzati. Per noi è fondamentale lasciare i nostri bambini in mano a degli insegnanti che sappiano quale sia il loro problema. Qual è stata la sua esperienza con i docenti di sostegno? Lei ha avvertito la carenza in questo settore? Purtroppo io sono in terza elementare con in tre anni quattro insegnanti diversi, nessuno specializzato e insegnanti che mi hanno recriminato di qualunque cosa, anche del semplice movimento del bambino indisciplinato perché è un bambino iperattivo, è un bambino a DHD e questo per noi è un grave grave problema. Lei teme per il prossimo anno? Sono terrorizzata per il prossimo anno, non temo, terrorizzata perché so che ci sarà la quinta insegnante di sostegno non specializzata.